Il caso dell'inquinamento provocato dalla Tamoil nel sottosuolo della Canottiere Bissolati prosegue con nuove iniziative. Oggi si è tenuta una conferenza stampa a Cremona in cui il senatore Simone Bossi ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro per la transizione ecologica. Si chiede di avviare una nuova istruttoria per la valutazione del danno ambientale, alla luce del fatto che è emersa la presenza di cospicue quantità di cherosene dai rilievi effettuati dalla Bissolati negli ultimi mesi. Inoltre è stata presentata un'interrogazione al sindaco e alla giunta comunale per sapere se Tamoil abbia presentato un piano di reindustrializzazione e in caso affermativo si chiede di sapere se l'iter autorizzativo si è già iniziato. Stiamo continuando un percorso che avevamo iniziato già con la prima conferenza stampa. Nella prima conferenza stampa avevamo annunciato che avremmo interrogato attraverso gli organi parlamentari il ministro della transizione ecologica e abbiamo aggiunto in questa fase, siccome ci risulta che stiano procedendo gli sviluppi sulla Tamoil, quindi ci sia un nuovo piano di reindustrializzazione dell'area che era stata fermata anni fa proprio per la bonifica che non è mai avvenuta e stiamo chiedendo se al ministero sia il corrente di questa cosa, se è vero che c'è questa nuova opportunità di reindustrializzazione, addirittura di assunzione di nuovi dipendenti per la nuova fase lavorativa e quindi noi chiediamo che prima che venga fatto tutto questo lavoro si continui con la bonifica che non è mai stata fatta, oltretutto dove noi sappiamo che l'inquinamento sta aumentando e che la falda si sta spostando sempre di più verso il fiume e quindi sta sversando all'interno del fiume problematiche diverse da quelle che erano che erano vent'anni fa. In questi vent'anni si è andato avanti, gli idrocarburi stanno continuando ad andare nel fiume e noi siamo molto preoccupati. Stiamo continuando a chiedere che venga risolto il problema e io ringrazio Sergio e ringrazio tutti quanti sono intervenuti e mi hanno contattato per porre l'attenzione su questa tematica che sembra una tematica solo cremonese, solo locale, ma invece è una tematica che riguarda tutti, perché comunque il fiume Po, abbiamo visto poi soprattutto in questo periodo come è ridotto, il fiume Po è di tutti, quindi fermare questa dispersione di idrocarburi nell'ambiente deve essere una priorità, ma per salvaguardare l'ambiente che è il posto in cui noi viviamo.